E' stato appena potenziato l'impianto di illuminazione artificiale in piazza della Repubblica e quindi come annunciato dal Comune vediamo che effettivamente sono già funzionanti alcuni dei corpi illuminanti che sono stati aggiunti proprio in questi giorni, proprio per il potenziamento dell'illuminazione in questo importantissimo polmone verde cittadino. Qui vediamo il castello Gioco che è stato inaugurato pochi giorni fa. Grazie a tutti. Una novità quindi senza dubbio importante sul piano della sicurezza pubblica oltre che per il decoro urbano. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.